Ciao amore, cosa stai facendo? Sto ripassando gli swing out Perché? Come perché? Questa è la nazionale audizione Vabbè ma cosa ti interessa? Rilassati, mica sono i campionati mondiali degli in the hop Eh sì Balliamo tra di noi Ma sì dai Te lo do io a volte, tranquilla Grazie a tutti